Ciao Marco, benvenuto in Juventus. Che cosa significa per te essere e far parte della Juve? Grazie, comunque sono veramente onorato di essere qui. Sicuramente è un grande attestato di stima da parte di una delle società più titolate al mondo e per me è molto stimolante essere qui. Che idea ti sei fatto della Juventus di questa stagione? Beh sicuramente è una squadra quadrata, solida, agguerrita, con fame proprio e giocano sempre sopra ritmo. Quindi mi ha sorpreso molto e spero che questa squadra possa far esprimere le mie doti nel migliore dei modi. Quali sono i tuoi obiettivi con questo nuovo gruppo? Va, sicuramente cercherò subito di entrare nella mentalità del gruppo e fare il meglio possibile. Adesso non voglio citare gli obiettivi, però sicuramente è raggiungere il massimo. Hai già avuto modo di confrontarti con Mr. Conte per il tuo ruolo e l'idea di gioco che mi era esprimere con le tue caratteristiche? Sì, ci siamo sentiti per telefono, però non abbiamo parlato di questi argomenti. Credo che lui è molto concentrato sulla partita di Lecce, quindi poi quando ci rincontreremo qui il 9 ne parleremo. Diversi giocatori di Tiro a Dubai hanno speso belle parole di benvenuto. In questo gruppo chi li trovi? In particolare volevamo capire anche qua se avevi già avuto modo di parlare con qualcuno di loro. Ma guarda, ti dirò che io ho giocato con quasi tutti i giocatori della Rosa. O in Nazionale, o con Mirko a Roma, con Andrea Pirlo al Milan. Mi sento spesso tramite sms con Giorgio Chiellini, con Pepe, con Pirlo. Non ho parlato al telefono, però ho scambiato sms. Marco, che cosa ti senti di dire ai nostri tifosi? Sì, niente, ai tifosi mi sento di dire solamente che non ho mai rifiutato la Juventus, perché la Juventus è una squadra che non si può rifiutare. Posso dire solamente che all'epoca dei fatti venne preferita la formula della cessione definitiva e quindi non trovarono un accordo con il Milan. Quindi io non ho mai rifiutato la Juventus. Posso dire ai tifosi che non voglio dire nient'altro, perché poi alla fine le chiacchiere le porta via il vento. Preferisco farmi vedere sul campo e onorare questa maglia nel migliore dei modi. Grazie.